Grazie Alice, grazie ad Alberto, grazie sempre a Maggioli per questo spazio che ci offre e che consente a me di rispondere a tante persone a cui magari poi durante la settimana per motivi di tempo, per impegni di lavoro non riesco a rispondere. Settimana piena di notizie, di dichiarazioni contrastanti, ad esempio io parto da questa domanda che mi è stata posta da parecchi utenti, perché ci sono state delle interviste al Ministro Calfagna che dice abbiamo trovato la strada in merito al concorsione della Regione Campania, ma in realtà in questo abbiamo ritrovato la strada, se ci fate un po' caso, quelli almeno che hanno seguito varie fonti e varie notizie, è una sorta di ritornello, probabilmente proprio un modo di esternare la volontà e il disegno politico del governo, perché io poi ho ritrovato la stessa frase anche nell'intervista ad esempio di Brunetta, quindi loro vogliono intendere che fanno riferimento alle nuove norme che stanno mettendo a punto proprio in termini di gestione dei concorsi. Però guardate, dalla lettura di un po' di documenti su queste nuove norme sulla gestione dei concorsi, io francamente tutte queste novità non le ho percepite, probabilmente è un po' colpa mia, forse sono io che non sono sufficientemente informato, ma io tutti questi aggiornamenti al momento non li ho ancora percepiti, se non il fatto che non ci sarà più il limite dei 30 posti per lo svolgimento dei concorsi o situazioni di questo tipo, oppure il ministro Calfagna in merito al concorso della regione Campania, il concorso bandito da De Luca nel 2019, se non ricordo male, in merito a questo concorso dove già c'era stata una prova preseltiva, c'erano state delle prove scritte, adesso i ragazzi stanno completando il tirocinio, che credo manchino uno o due mesi per completare il tirocinio, poi comunque dopo tutto questo iter erano previste ulteriori prove scritte e orali. E quindi il ministro Calfagna fa riferimento ad una semplificazione di questa procedura, perché dopo tutte queste prove, ulteriori prove da svolgere è sembrato in qualche modo esagerato, e quindi a momenti, a giorni, forse già questa settimana, o al più la settimana prossima, dovrebbero presentare le modifiche che hanno elaborato con anche il ministro dell'amministrazione pubblica, con il ministro Brunetta. Quindi fanno riferimento in modo particolare a questo in termini di semplificazioni. I timori che sono stati paventati da un po' di persone che poi possano cambiare completamente lo svolgimento anche di altri concorsi pubblici, ad oggi, ripeto e sottolineo ad oggi, io francamente dalle dichiarazioni che ho letto, questi stravolgimenti di concorsi pubblici non le ho percepite. Provate proprio a leggere più nel dettaglio anche le dichiarazioni, ad esempio, del ministro Brunetta, che sono state riprese da tante fonti. Questa è una dichiarazione rilasciata, ad esempio, al Corriere dell'Umbra, adesso non ve la leggo tutta quanta, ma anche perché c'è, secondo me, una fonte abbastanza tendibile, che è quella di leggi oggi e anche abbastanza aggiornata, che dice concorsi pubblici 2021 via libera delle CTS, la novità del decreto Covid. Questo decreto che dovrebbe essere annunciato già oggi o al più domani, ma pare che già oggi è possibile che ci sia il via libera nel Consiglio dei Ministri e quali possono essere, insomma, le novità. Allora, in questo articolo, vedete, anche qui c'è scritto abbiamo trovato la strada, perché questo è probabilmente proprio la modalità con cui comunicheranno queste nuove norme, quindi evidentemente chi si occupa di comunicazione per la Presidenza del Consiglio o per alcuni ministri ha deciso di usare questo tipo di slogan. Le novità di cui si sta parlando, che in qualche modo sono trappelate, sono queste. Sono queste, concorsi in presenza da organizzare su base regionale o provinciale per limitare gli spostamenti. Però, attenzione, i concorsi in presenza su base regionale, ma questo fa riferimento in modo particolare a concorsi nazionali, e probabilmente nemmeno tutti, ma alcuni concorsi nazionali. Per i concorsi di enti locali diventa decisamente più complicato. Immaginate il concorso del Comune di Bari, che il Comune di Bari possa organizzare una serie di sedi periferiche, per cui o ci sarà proprio un impegno importante da parte del Governo per consentire un'operazione di questo tipo, o mi sembra, insomma, complicato che anche gli enti locali possano organizzare concorsi su base regionale o provinciale. Però, il dettaglio, purtroppo, dobbiamo aspettare il decreto, altrimenti non capiremo. Ad oggi, concorsi svolti su base regionale o provinciale, ma in realtà se ne parlava già con il Ministro Dadone, ecco perché io prima dicevo, io tutte queste novità francamente non le vedo, perché già il Ministro Dadone aveva impostato questo tipo di lavoro, e quindi diamo alla Dadone quel che è della Dadone. Ma si parlava di concorsi su base regionale per, in modo particolare, alcuni concorsi nazionali, come i concorsi a cattedra, ma sapete bene che già i concorsi a cattedra sono stati svolti nelle scuole e nelle varie regioni, oppure i concorsi Fornez, per le quali ancora si attende di conoscere l'esito della manifestazione di interesse proprio per la individuazione di sedi in tutte le regioni. Poi ancora, qual è l'altra novità di cui si parla? Lo scaglionamento degli orari di presentazione per evitare assembramenti in prossimità e all'interno dell'area concorsuale. Ma anche questa, non mi sembra questa grande novità, poi non so voi come la pensate, però certo è un elemento che potrà aiutare a ridurre la possibilità di assembramenti. Prove pratiche in spazi aperti, se possibile, e questo poi lo si vedrà, se possibile o meno. Tampone rapido molecolare, domanda che molti mi hanno chiesto, ma resterà l'obbligo del tampone? Beh, pare di sì, o quantomeno per il momento pare che comunque per chi andrà a svolgere dei concorsi, per il momento il tampone, almeno fin quando il numero dei contagi continuerà a restare sostenuto come oggi, io, anche questa è una cosa che avevo anticipato, per alcune settimane l'obbligo del tampone, purtroppo, era difficile che lo eliminassero. Poi probabilmente da maggio, maggio inoltre o giugno, probabilmente lo sarà eliminato, ma sembra che il governo sia intenzionato per il momento a mantenere l'obbligo del tampone. Poi la settimana prossima avremo il decreto e quindi potremo commentare poi nel dettaglio proprio l'atto ufficiale. In sede d'esame indossare la mascherina FFP2, questa, se volete, è un po' una novità rispetto anche a quanto aveva già, ripeto, stabilito il ministro D'Odone, il predecessore del ministro Brunetta, quindi in modo particolare c'è l'indicazione a questo particolare tipo di mascherina, e poi il fatto che per ogni candidato deve essere garantita un'area di 4,5 metri quadri e un distanziamento a 2,25 metri. Ma se volete, questa in realtà, poi tutta questa, come dire, novità, non c'è, se non è il fatto che cade praticamente l'obbligo del, cadrà o si prevede, insomma, possa cadere l'obbligo dei 30 candidati per sessione, per cui se l'amministrazione dovesse prendere un locale molto, molto ampio, che ne sono un locale di 1,000 metri quadri, considerando 4,5 metri quadri a candidato, supponiamo anche 5 metri quadri, 1,000 diviso 5 fa 200, e quindi è possibile che, insomma, si possano organizzare delle sessioni anche con molti più candidati rispetto a quanto è possibile attualmente, a quanto è possibile oggi. Quindi questa è la, tutto sommato, almeno, ripeto, da quanto ho visto io, da quanto ho letto io, dalle indiscrizioni che sono trapelate, perché stiamo ancora parlando di indiscrizioni, atti di certezza, dobbiamo attendere il Consiglio dei Ministri. Ma dalle indiscrizioni che sono trapelate, l'unica novità significativa è il fatto che dovrebbe cadere il limite deterrente, quindi che sia possibile, in questo modo, far ripartire anche concorsi con una maggiore quantità di candidati, in modo particolare concorsi nazionali che da tempo sono sospesi, come il concorso per assistenti Minibac, come il concorso per funzionari giudiziari, e via discorrendo. Quindi, ad oggi, ad oggi, di novità importanti c'è questo. Poi, attenzione, e questo probabilmente, ripeto, lo sapremo forse già in serata, appena lo sapremo, tra stasera e domani, o dopo domani, insomma, appena sarà pubblicato il decreto, poi, o su Legge Oggi, o anch'io se avrò tempo su Codro Contest e Concorsi, eccetera, poi andremo a fare un commento direttamente sul testo di legge. Dire altro mi sembra, insomma, in questo momento, un processo alle intenzioni, che non aiuta a nessuno, cioè non rincorrete ipotesi. Cerchiamo di restare sui dati di fatto, sui documenti ufficiali. L'altro decreto che potrebbe apportare ulteriori modifiche è il decreto semplificazioni. Ci sono delle persone che mi hanno detto, ma, per questo che noi temiamo, che si possano introdurre, anche per concorsi oggi in atto delle norme, tipo quelle che sono state introdotte, o che si vuole introdurre, per l'assunzione dei 2.800 rettnici, cioè con una preselezione svolta solamente sulla base dei titoli, e poi chi supera questa preselezione va a fare solamente una prova scritta con un quiz a risposta, con un test con domande a risposta multica. Allora, io quello che mi sento di dirvi è che per i concorsi già banditi che si possa optare per una soluzione del genere, andando a stravolgere il bando dei concorsi, a me sembra davvero improbabile. Al più, quello che può succedere, ad esempio, per concorsi che da tanto tempo sono sospesi, e se per questi concorsi mancano anche da due prove, magari una prova possa essere abbonata, e invece di farne due, i candidati faranno solamente una prova. Non è impossibile che questo accada, ma che ci sia uno stravolgimento dei bandi appena pubblicati, tipo, che ne so, il bando per 2.133 funzionari, appena, tra virgolette, perché ormai è stato pubblicato nel 2020, quindi da diversi mesi. Che quel bando lo possano stravolgere, in quel bando era prevista una preselezione con quiz, risposta multipla di logica e anche diritto, e adesso possano decidere di non svolgere più la preselezione in quel modo, ma di svolgerla con, che ne so, una preselezione solamente sulla base dei titoli, francamente mi sembra assolutamente, cioè mi sembra improbabile, mi sembra davvero improbabile. Anche perché in questo modo si presterebbero il fianco ad una serie di ricorsi, quindi io credo piuttosto che si continui come, almeno per i concorsi già banditi, come era stato già preventivato sostanzialmente, ripeto, al massimo, se ci sono due prove scritte, potrebbero decidere di svolgerne una sola. Cioè, al di là di queste, di queste modifiche, altro mi sembra davvero arduo pensarlo e immaginarlo, a meno che non vogliano creare confusione, ma può anche darsi che, insomma, la politica in questo momento abbia deciso di creare confusione. Io dubito che questo accaderà. Quindi, se di semplificazione si tratta, ma semplificazione non in termini di stravolgimento del canovaccio concorsuale, così come è stato pubblicato, con bandi di concorso. Eventuali cambiamenti un po' più sostenuti potrebbero esserci per i nuovi bandi, per i concorsi che devono ancora essere banditi. Ma su quello poi aspettiamo il decreto semplificazioni, decreto che è atteso per metà aprile, insomma, almeno così ha detto il ministro Brunetta, e quindi appena avremo il decreto semplificazioni poi potremo effettuare delle valutazioni un po' più precise. Al di là del decreto, quello, ancora una volta, che mi sento di dire, ripeto, stare a discutere di ipotesi, forse così, forse colà, non vi aiuta. Io mi sento di dirvi, studiate, studiate serenamente, perché l'obiettivo del governo non è quello di mandare in buca l'intero sistema, non è certamente questo. È quello di rendere più agevole lo svolgimento dei concorsi. Quindi comunque, anzi, dovete prendere queste notizie come un elemento positivo, cioè come la volontà di far ripartire il sistema, di iniziare ad assumere delle persone. Questo intanto perché c'è un'esigenza concreta dalla pubblica amministrazione, ci sono tante posizioni vacanti che vanno riempite. Quindi non prendetela sempre come un elemento di ansia, perché non sarà così. Anche persone che mi dicono ma, professore, noi non abbiamo tutti questi titoli, non abbiamo, che facciamo adesso? Saremmo esclusi da tutti i concorsi? Ma assolutamente no, state tranquilli, continuate a studiare, anche se dovesse esserci il concorso dove decideranno di applicare questo tipo di, che ne so, una preselezione per titoli, come accadrà per i 2800 funzionari che dovrebbe essere bandito venerdì prossimo, ma dico anche in quel caso, state tranquilli perché comunque un'amministrazione pubblica che decida di svolgere delle preselezioni solamente sulla base dei titoli è un'amministrazione che resterebbe il fianco a contestazioni polemiche enormi, grandissime. E siccome le amministrazioni pubbliche guardano non solo al buon andamento dell'amministrazione, ma guardano anche a discorsi di tipo elettorale, cioè loro devono prestare attenzione anche a non inimicarsi l'elettorato, quando ci sono discorsi relativi anche all'elettorato poi tante situazioni rientrano. Quindi io al momento, al di là delle preoccupazioni palesate da tanti, io tutte queste preoccupazioni non le vedo e chiudo questa parentesi dicendovi, avete visto anche le tante novità di cui ha parlato il ministro programma, in realtà non è altro che il prolungamento del lavoro già impostato dal ministro d'autore. Quindi mi piace rendere atto al ministro d'autore di aver impostato il lavoro. E il ministro programma sta portando avanti una serie di indicazioni che già si conoscevano. Quando io vi parlavo mesi fa, non ieri, ma mesi fa, di un assembramento di concorsi che è atteso a partire da maggio e l'ho fatto non solo a base di un'ipotesi strampalata, ma l'ho fatto proprio solo a base di atti concreti, di iniziative, di situazioni che hanno iniziato a palesarsi mesi fa, ben prima che arrivasse il ministro Brunetta. Quindi questo un po' per rassicurarvi, ma non in modo fatuo, non tanto per dirvi no, state tranquilli così, ma per farlo come atto di concretezza. Non aspettatevi questi stravolgimenti, queste rivoluzioni che al momento le rivoluzioni rischiano di essere più dolorose e più complicate e più, come dire, più possono creare più da di quanto possano far di quanto possano far bene. Quindi studiate, studiate serenamente, continuate a studiare perché anche chi non ha grandi titoli potrà continuare a partecipare ai concorsi pubblici. Qualche cambiamento è possibile che ci sia, ma la rivoluzione, lo stravolgimento delle regole democratiche non è in questo momento in discussione. Insomma, questo per dirvi in sintesi quello che è lo scenario che si sta palesando e poi appena ci saranno proprio i decreti vedremo, andremo ad analizzare il decreto, le ipotesi. Trovano sempre il tempo, hanno sempre il tempo che trova. Poi, altra domanda che mi è stata posta. Buongiorno, professore, c'è la possibilità che la prova scritta dei funzionari venga svolta con modalità proctoring. Allora, da questo punto di vista, molti mi stanno chiedendo questo, stanno sottolineando questo aspetto. Quali concorsi possano essere organizzati con la modalità proctoring, ovvero con candidati che restano al loro domicilio. Da questo punto di vista, mi è sembrato abbastanza netto Brunetta, dicendo che va bene che i concorsi non debbano essere più svolti con moduli cartacei, sostanzialmente, ma che debbano essere svolti con modalità telematiche. Però, analizzando meglio le dichiarazioni di Brunetta, quando il ministro parla di modalità telematiche, fa riferimento in modo particolare allo svolgimento delle prove al computer, ma non restando ciascuno a casa propria, ma in sedi istituzionali, cioè lui ha precisato questo. Quindi comunque i candidati si riteranno nelle aule indicate dal ministro, però invece di avere, invece di svolgere la prova con supporti cartacei, gli sarà fornito un tablet, un computer su cui svolgere la prova. Quindi questo è il cambiamento. E concorsi come funzionari giudiziari, questi sono concorsi che comunque dovrebbero rientrare in questa indicazione del ministro, visto che sono concorsi gestiti direttamente dalla la cui gestione è stata affidata al Fornez e il Fornez è controllato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi praticamente segue le indicazioni anche del ministro del ministro Brunetta. Quindi al momento per concorsi come funzionari giudiziari, NIMBAC, Ministero dell'Ambiente, SNA, 2.133 funzionari eccetera pare che l'ipotesi più concreta sia quella di svolgere il concorso in presenza però con candidati che verosimilmente saranno smistati in più sedi distribuite sul territorio nazionale. E qui c'è questa immagine che mi è stata segnalata da amici psicologi adesso non so esattamente da quale testo è stata tratta però mi diceva proprio un amico psicologo che ha seguito uno dei miei webinar quando io ho parlato nei webinar scorsi degli ingredienti che sono necessari per raggiungere il successo e lui mi diceva questo mio amico mi diceva guarda mi hai fatto pensare a delle teorie su cui anche in psicologia spesso ci confrontiamo o anche in quel settore che è un po' parallelo alla psicologia che è quello del coaching dove ci sono delle teorie che vengono portate avanti su come aiutare i candidati a diventare da persone perdenti a persone vincenti e loro hanno detto beh tu non hai fatto altro che parlare di situazioni che in realtà da tempo noi portiamo avanti perché mi sottolineava questo aspetto diciamo in effetti noi quello che vediamo è che spesso ci sono candidati che per una serie di candidati diciamo persone loro clienti che per una serie di situazioni partono da questa posizione iniziale noi questa attività non la faremo mai perché non ci piace perché non riteniamo che non sia valida o perché riteniamo noi stessi non essere capaci e il secondo caradino dopo il io non lo faccio è proprio quello di io non lo faccio perché perché non posso perché non posso farlo e quindi varie volte io vi ho detto guardate quando dovete preparare un concorso il primo scoglio è capire in termini proprio di motivazione cercare di capire ma siete motivati a voler preparare il concorso perché preparare un concorso non è una passeggiata comporta comunque mesi di studio di sacrifici di impegno eccetera quindi il primo aspetto è l'aspetto motivazionale poi viene tutto il resto eventuali libri eventuali che ne so chat social canali social con cui confrontarsi con altri utenti eventuali corsi lezioni online in presenza eccetera ma quello è solamente l'ultimo davvero degli stessi bene questo psicologo mi ha dato atto ha detto beh anche noi anche in altri settori non solamente nel settore dei concorsi ma in generale abbiamo riscontrato questo tipo di approccio e tu non hai fatto altro che riprendere quello che poi noi vediamo anche tutti i giorni anche da un punto di vista un po' più come dire scientifico dal punto di vista clinico quindi a maggior ragione ricordatevi se avete deciso di preparare un concorso non è una passeggiata cioè a me non piace non piacciono quelle persone che dicono c'è la formula magica venite da noi vedrete diventa tutto quanto facile agevole non è così se io vi dicessi così insomma vi prendere in giro così come non mi piace prendere in giro dicendovi comprate questo libro e diventerete bravi non funziona così prima ancora di decidere se comprare un libro andare a lezioni svolgere dei corsi cercate di riflettere guardate dentro voi stessi per capire ma siete davvero intenzionati a svolgere un concorso a sacrificare a sacrificarvi per vari mesi a sacrificare una serie di impegni di vita eccetera da dedicare allo studio per poter raggiungere l'obiettivo perché si tratta proprio è un po' come come affrontare una lunga salita il percorso non è un percorso in discesa ma è un percorso in salita ed è un percorso che comporta parecchia fatica e tante tante rinunce quindi partite da questo presupposto questo era solamente un accenno insomma ho avuto questo tipo di riscontro mi piaceva mostrarvelo e quindi non vi sto dicendo delle fesserie non vi ho detto in passato delle fesserie ma ho dato delle indicazioni che poi anche alcuni psicologi hanno in qualche modo confermato poi c'è questa domanda che mi dice vorrei avere una semplice informazione per il concorso indetto dal MAECI è possibile presentare la propria candidatura essendo in possesso di una laurea trennale o magistrale dato che all'articolo numero 2 viene specificato che può presentare domanda a chi è in possesso di diploma di scuola media superiore allora guardate questa è una domanda o domande di questo tipo ogni tanto mi giungono c'è il bando di concorso per diplomati io sono laureato posso partecipare al concorso quando mi ponete delle domande di questo tipo beh mi fate pensare che forse dei limiti anche proprio in termini di ragionamento ci sono perché se una persona è laureata a maggior ragione sarà diplomata cioè una persona non si può laureare se non ha conseguito il diploma perché per potersi iscrivere a corsi universitari è necessario il diploma di maturità quindi è normale che una persona laureata possa tranquillamente partecipare anche ai concorsi per diplomati questo lo dico mi rendo conto magari persone che partecipano per la prima volta a un concorso il dubbio potrebbero averlo però nell'addizione che viene utilizzata nei bandi di concorso quando si dice per partecipare al concorso pinco pallo è necessario il diploma non si dice che solo le persone che hanno il diploma e sono esclusi tutti quelli che hanno la laurea il master il dottorato la specializzazione eccetera si dice che i titoli che sono indicati sono titoli minimi requisiti minimi di partecipazione non sono requisiti esclusivi di partecipazione solo chi ha il diploma se hai deciso di continuare a studiare sei tagliato fuori sei fatto fuori non significa questo significa che anche chi se il requisito minimo è il diploma tutti quelli che hanno il diploma o titoli superiori possono partecipare al concorso quindi anche con la laurea anche con specializzazioni master è ovvio che si possa partecipare quindi ricordatevi nei bandi di concorso sono indicati come titoli di accesso i titoli i requisiti minimi non i requisiti massimi o esclusivi di partecipazione sono i requisiti minimi chi ha titoli ulteriori ma a maggior ragione potrà partecipare questo lo chiarisco ripeto da questo messaggio da questi messaggi viene fuori un po' di ingenuità legata magari al fatto che queste persone insomma per la prima volta si stanno affacciando al mondo dei concorsi altra domanda che mi è stata posta frequentemente nell'ultimo periodo è una domanda in merito al concorso in magistratura ci sono tante ipotesi però intanto martedì scorso è stato pubblicato in gazzetta questo avviso in cui si dice che si informa che ulteriori comunicazioni concernenti la procedura saranno pubblicate nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 2021 che significa questo? sono circolate varie ipotesi su eventuali rinvii su a luglio a settembre eccetera intanto ad oggi sicuramente il ministero sta ragionando anche su eventuali rinvii però in realtà non abbiamo ancora elementi di certezza eventuali elementi li avremo proprio in questi giorni perché è in questi giorni che la situazione dei concorsi la si sta analizzando con maggiore attenzione probabilmente già stasera o domani con l'eventuale nuovo decreto covid è possibile che introducano dalle norme anche in merito ai prossimi concorsi anche su situazioni specifiche oppure ancora con il decreto semplificazioni di metà aprile quindi comunque per il momento dobbiamo attendere dobbiamo attendere poi il 16 aprile avremo delle indicazioni più precise intanto per come è impostato l'annuncio pubblicato in gazzetta ufficiale da questo annuncio non si capisce che ci sarà un rinvio si capisce solamente che il ministero sta ragionando anche in termini proprio di gestione di organizzazione del concorso se farlo magari non solamente in due sedi se farlo in più sedi considerando che per il concorso in magistratura visto che le prove richiedono varie ore di tempo lo stazionamento nella stessa aula nello stesso ambiente per tante ore di tempo si sta cercando di capire se questo sarà possibile farlo già a fine maggio o se invece per precauzione non sia preferibile rinviare di alcune settimane nello svolgimento delle prove quando magari la situazione epidemiologica sarà decisamente più più come dire vantaggiosa quando ci saranno molti meno casi e quindi con molti meno rischi di possibili contagi quindi il motivo principale è questo il fatto che visto che i candidati non restano nell'aula solamente un'ora ma devono restare per quasi una giornata intera ma possono restare con sufficiente sicurezza per tante ore di seguito nella stessa aula questo è il problema che si sta cercando di capire anche con il CTS e a momenti forse ripeto già in serata o comunque nei prossimi giorni sapremo meglio per cui al momento io non direi che è certo il rinvio diciamo che il governo e il ministero stanno ragionando se insomma rinviarlo o confermarlo a fine maggio oppure se rinviarlo di alcune settimane e come altre notizie in realtà guardate di notizie ce ne sarebbero tante ma al momento ci sono tante voci e di documenti ufficiali non ce ne sono tanti i documenti ufficiali quelli che avevamo li ho già presentati anche negli scolzi webinar da queste voci quello che emerge è che comunque c'è una volontà feria c'è quella di far di far come dire ricominciare i concorsi ma elementi di concretezza importanti al momento cioè si attendono molte amministrazioni attendono anche poi i passi e le mosse del governo appena ci saranno i passi e le mosse del governo saranno pubblicati i decreti e poi si sbloccherà tutto quanto anche con altri dati ufficiali documenti ufficiali ad esempio molti mi hanno chiesto nelle ultime settimane ma quel concorso bandito per quel concorso unico tra INAIL INL e Ministero del Lavoro per 1500 posti bandito nel 2019 di cui poi si sono perse le tracce non ci sono stati comunicati non si sa se e quando come se è stato annullato se si farà o meno guardate al momento mi piace dire questa cosa non è stato annullato nulla anzi c'è una nota del 10 marzo 2021 questa è una nota dei sindacati e i sindacati inseguono e seguono anche delle dinamiche che magari non non sempre sono assimilabili a notizie come dire ufficiali sono delle loro richieste loro hanno fatto delle richieste alla all'amministrazione e in modo particolare in questo caso all'amministrazione dell'INAIL e cosa dicono allora intanto loro parlano di un'emorragia di personale non sono bloccate 350.000 assunzioni va bene all'interno del quale viene denunciata una carenza di 2.000 unità nell'istituto nell'INAIL cioè dicono che c'è questa carenza di 2.000 unità e questo è un dato concreto perché è tratto dai documenti sui documenti ufficiali quelli sul il piano trennale del fabbisogno del personale anche dell'INAIL quindi non sono dati campatinari ma sono dati di concretezza considerate che 2.000 unità in termini di carenza non è riferito solamente al personale amministrativo perché presso l'INAIL poi lavorano anche tante altre figure ad esempio ci sono molti medici che lavorano con l'INAIL quindi complessivamente si parla insomma di queste 2.000 unità e in merito al personale amministrativo ho letto alcuni giorni fa il piano trennale dei fabbisogni di personale credo ammontasse proprio a 6-700 insomma unità che sono poi quelli dei 1.500 posti complessivi 600-700 sono quelli che poi sono destinati all'INAIL e quello che si dice in questo documento se lo leggete poi più nel dettaglio si parla di 635 risorse in ambito amministrativo più o meno praticamente i posti sono messi a bando e si dice che comunque c'è l'intenzione di portare avanti sostanzialmente i concorsi quello che quindi il concorso non solo non è stato bloccato questo lo dico per proprio rassicurare quanti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso INEAL non si parla al momento non si parla di annullamento del concorso di blocco del concorso stamattina mi stanno contattando in tanti non so per quale motivo dicevo non si parla di un blocco del concorso di una sospensione del concorso si parla anzi di voler portare avanti il concorso i sindacati ovviamente portano avanti le loro rivendicazioni loro parlano di ampliare i posti in termini di progressioni verticali perché quello che sta accadendo all'interno dell'INAIL adesso non so se lo sta facendo anche il ministero del lavoro però per l'INAIL che hanno approfittato di questa pausa per portare avanti altri discorsi come le progressioni verticali se volete io dovrei avere anche il documento ufficiale così insomma lo dimostro proprio perché ormai chi mi conosce sa che mi piace dimostrare tutto quanto e in merito all'INAIL a inizio anno inizio 2021 è stato bandito il sono state bandite le progressioni verticali eccolo qui allora vedete c'è istituto nazionale per l'assicurazione contro le infortuni sul lavoro selezione interna per la progressione verticale di cento unità di personale dall'area B all'area C quindi comunque questo è proprio un bando di credo sia del 3-4 gennaio insomma di inizio gennaio è stato bandito questo bando che era però solamente per il personale interno e questo bando sta andando avanti nell'arco di poche settimane sarà concluso subito dopo poi verosimilmente ci sarà la possibilità di avviare anche il concorso quello per gli esterni quello del 2019 quello il concorso unico con INL e ministro del lavoro salvo ulteriori novità ma che al momento non ci sono cioè al momento leggendo gli atti ufficiali non è cambiato nulla l'unico l'unico aspetto è che proprio in virtù della pandemia si è ritenuto opportuno sospendere lo svolgimento delle prove per poi organizzarle quando insomma le condizioni lo consentono quindi questo per rassicurare ripeto i tanti che tengono a questo concorso e che hanno preparato per tanto tempo questo concorso va bene altre notizie io nel frattempo insomma chiedo anche alla regia se sono giunte altre altre domande però quello che mi piace dirvi è che al momento ripeto ci sono tante tante ipotesi e non vi aiuta in seguire le ipotesi io dalla proprio qui lo dico sulla base anche della mia esperienza vi dico non aspettatevi questi stravolgimenti per cui studiate studiate serenamente e la cosa importante è che in questo clima quello che emerge chiaramente è la volontà ferga da parte del nuovo governo di riaviare la stagione concorsuale non solo per quella dei piccoli concorsi che in realtà è da mesi che stanno comunque andando avanti e tante persone comunque le stanno assumendo ugualmente ma di riaviare di riaviare la stagione concorsuale anche dei grandi concorsi e prima di dare la parola alla regia una piccola nota questa è una nota di commento io ascoltando il ministro Brunetta ha detto varie volte che ha usato questa dizione non possiamo più permetterci che i concorsi si svolgano con modalità dell'ottocento cioè lui ha usato questa dizione ma facendo riferimento in modo particolare al fatto che magari i concorsi vengono svolti ancora con carte e penna come si faceva anche 30 anni fa 40 anni fa 50 anni fa lui ha detto ormai siamo nell'era digitale quindi è anche giusto che anche in termini di velocità nella correzione delle prove che concorsi si possano svolgere con supporti informatici e tutto qui fin qui insomma nulla di strano nulla di nuovo nulla di anzi nemmeno nulla di particolarmente innovativo visto che comunque erano tutte situazioni che aveva già portato avanti il ministro il ministro radone quindi ecco perché dico non spaventatevi la cosa fondamentale è che i concorsi possano ripartire possono andare avanti anche celermente però piccola nota ripeto non so se il ministro Brunetta mi stia seguendo penso proprio di no perché non credo abbia tempo di seguire le indicazioni che vengono fornite da Giuseppe Cudocco però quello che mi piace sottolineare è che in realtà anche con lo svolgimento al computer delle prove cioè io non vedo questa grande accelerazione perché in passato fino ad oggi fino a qualche settimana fa anche nei concorsi che vengono svolti con moduli cartaci poi comunque la correzione non viene fatta a mano diciamo la correzione viene fatta con sistemi elettronici con sistemi elettronici di lettura ottica e quindi nell'arco di un giorno due giorni comunque non nell'arco di un minuto nell'arco di un giorno di 24 ore si ha l'esito volendo si ha l'esito delle prove quantomeno dalle prove a quiz e anche per le prove a tema anche se una persona svolge la prova a tema con il computer non è che poi ci sia tutta questa accelerazione in termini di svolgimento del concorso perché poi comunque le prove a tema vanno lette vanno corrette cioè il problema è che questo richiede del tempo poi magari può essere agevolato il lavoro dalle commissioni perché un conto è leggere la grafia dei candidati un conto è leggere diciamo un tema svolto al computer ma parliamo di un'accelerazione minima cioè io non vedo questa ecco perché vi dico guardate io francamente questa grande rivoluzione sarò io ingenuo ma io questa grande rivoluzione ad oggi non la vedo poi è normale che la politica faccia il suo lavoro la politica è fatta anche di tanta propaganda però concretamente state tranquilli che questa grande rivoluzione ad oggi a me non sembra che che ci sia ci sono solamente dei ritocchini ci sono solamente delle situazioni per migliorare il sistema ma nulla nulla di stravolgente allora regia c'è qualche domanda che è arrivata? sì sono arrivate alcune domande allora novità sul concorso regione Puglia? no no allora lo dicevo il problema è che molte amministrazioni stanno attendendo proprio gli atti concreti del governo quindi al di là di ipotesi di voci di dichiarazioni anche ufficiali da parte dell'assessore da parte delle autorità dei protagonisti che sono in campo si sbloccherà anche proprio con atti concreti la situazione anche di concorsi attesi come la regione Puglia la regione Sicilia o altri concorsi che devono essere banditi a breve appena il governo pubblicherà questi decreti che sono molto attesi il primo decreto il decreto covid che dovrebbe essere pubblicato già in serata o al più domani e poi il decreto semplificazioni che sarà pubblicato la settimana prossima appena ci saranno questi decreti poi si sbloccherà tutto quanto questo sia per la magistratura sia per la regione Puglia per una serie di concorsi accadranno ma poi come dire si sbloccheranno tutti quanti uno dietro l'altro grazie per il bando IMS e agenzie entrate potrebbero esserci stravolgimenti sarà prevista la banca dati no no grazie ma la banca dati è diventato ormai uno strumento davvero dell'ottocento cioè non il ministro Brunetta qualche volta ha parlato di esperienze che si svolgono all'estero la banca dati è una cosa che viene utilizzata in Italia ma all'estero banca dati ma quando mai c'è la banca dati i concorsi si fanno senza banca dati perché con la banca dati vengono aiutate in modo particolare non è uno strumento diciamo che è lo strumento che è stato adottato in passato come pezza per dare una parvenza di maggiore equità al sistema ma in realtà la banca dati non aiuta a selezionare i migliori aiuta a selezionare le persone che hanno più tempo per selezionare la banca dati ma in questo modo non si selezionano i migliori cioè l'obiett o non necessariamente diciamo così perché poi magari qualcuno se ne può insomma si può lamentare di questo con la banca dati non necessariamente si selezionano i migliori si selezionano persone che hanno tanto tempo da dedicare alla memorizzazione dei dati che sono presenti nella banca dati certo una persona anche più preparata riuscirà a memorizzare più facilmente i dati anche con la banca dati il fatto di avere una preparazione a monte aiuta in termini di memorizzazione rispetto a chi fa solo un lavoro melemonico quindi però in linea di massima il problema è che tra una persona che ha tempo una o due ore di tempo al giorno per studiare la banca dati e una persona che può studiarla dalla mattina a sera perché ha tutto il tempo a disposizione si si va a finire si finisce per non per premiare non necessariamente i migliori ma per premiare persone che hanno magari più tempo da dedicare allo studio della sola banca dati considerando che poi per evitare di avere punteggi tutti quanti altissimi nelle banche dati non ci sono solamente domande banali ma va a finire che vengono inserite anche dalle domande particolarmente cavillose che sono quelle domande che o si imparano memoria o anche una persona preparata magari avrebbe difficoltà a rispondere a quelle domande quindi non aspettatevi come novità come stravolgimento come rivoluzione il ripristino delle banche dati i concorsi INPS l'agenzia dell'entrata eccetera salvo poi novità che ad oggi ripeto io vi sto dando delle informazioni sulla base delle notizie ufficiali che ad oggi ci sono se poi domani il Brunetta Draghi e Ruffini dell'agenzia dell'entrata cambiano idea io questo non ve lo so dire però ad oggi sulla base delle informazioni che ci sono fino ad oggi quello che vi posso dire è che i concorsi INPS l'agenzia dell'entrata eccetera saranno svolti sostanzialmente come sono stati svolti anche i precedenti i precedenti bandi senza banca dati con prove a quiz prove orale eccetera quello che può cambiare scusami regia dico solamente questo ad esempio per l'agenzia dell'entrata si sta discutendo se il concorso invece di svolgerlo al Roma come è successo nel precedente bando quindi tutti i candidati al Roma se anche per l'agenzia dell'entrata individuare delle sedi periferiche quindi suddividere i candidati in diverse regioni come in realtà accadeva con l'agenzia dell'entrata nei bandi fino al 2013 se non sbaglio poi dal 2015 c'è stata questa sorta di affluenza dei candidati tutti quanti sul Roma ma fino al 2013 l'agenzia dell'entrata già svolgeva le prove in diverse sedi regionali poi? grazie allora buongiorno per il concorso dirigenti SNA è sicuro che le prove pre-selettive si svolgeranno a livello regionale? questo potrebbe comportare delle lungaggini organizzative dovute al fatto di ricercare le sedi in tutta Italia in cui tenerla a prova e alla necessità di partire nella stessa data quindi la prima data utile potrebbe essere non prima di luglio? allora per il concorso SNA questo è un concorso gestito dal Formez e per i concorsi Formez in realtà già a gennaio il Formez ha avviato le manifestazioni di interesse per individuare le sedi più sedi dislocate in 19 regioni tranne il Trentino Alto Adige ma per individuare le sedi in tutte le altre regioni per lo svolgimento delle prove quindi non aspettatevi che da domani ci sia il bando di gara per l'individuazione delle aule il Formez si è già mosso ecco perché dicevo guardate io Brunetta sta usando questi toni da novità e cose nuove ma in realtà le novità di cui sta parlando Brunetta sono una serie di attività che erano state già predisposte dal precedente ministro io questo lo dico guardate per onestà molti dicevano ma lei professore ce l'ha con la Dadone io non ce l'ho con la Dadone io mi limito a commentare i documenti ufficiali e commentando i documenti ufficiali io devo dire per onestà molte delle cose di cui sta parlando Brunetta in realtà erano attività che erano state già avviate dal ministro Dadone e dalla dirigenza del Formez con Buonisoli eccetera quindi non aspettatevi ripeto da domani il bando di gara e quindi poi magari a luglio agosto le prove no guardate che il bando di gara per non il bando ma la manifestazione di interesse per l'individuazione delle aule a livello regionale già scadeva il 20 febbraio adesso si attende solamente l'aggiudicazione delle sedi e quindi il documento in cui saranno individuate le sedi nelle varie regioni non solo il Formez ha bandito delle manifestazioni di interesse per un periodo che va da maggio fino alla fine del 2021 individuando in ogni mese una serie di date in cui poter svolgere delle prove quindi per questo bando io credo che seguirà vedendo gli atti propedeutici messi in atto dal Formez e le dichiarazioni anche da parte del Ministro della PIA seguirà le indicazioni di altri concorsi Formez funzionari giudiziari 2.133 funzionari eccetera l'unico aspetto che resta da capire è come poi il Formez con il Dipartimento della Funzione Pubblica a quali concorsi decideranno di dare priorità e da alcune indiscrezioni però poi bisogna vedere se saranno confermate ma mi sembra anche una cosa di buon senso riprendere lo svolgimento delle prove da quelle prove da quei concorsi per i quali erano state già svolte le prove preselettive tipo funzionari giudiziari dove si sa che parteciperanno poi alle prove scritte solamente 8.000 persone circa 8.000 persone quindi un bacino già più contenuto di persone oppure discorso analogo per il Nibac quindi e poi magari dopo iniziare a svolgere prove come i concorsi SNAO i 2.133 funzionari o il vecchio bando INAIL il concorso unico tra Ministero del Lavoro INAIL e INL ok quindi può anche darsi che lo svolgano prima anche a maggio a fine maggio cioè non partite cioè qui indicazioni precise sul calendario con cui verranno svolte le prove che sono state affidate al Formez ad oggi non lo abbiamo quindi dobbiamo attendere di capire poi dopo che saranno approvati i decreti semplificazione e il decreto covid poi quale sarà la priorità che il Dipartimento della Funzione Pubblica darà alle singole prove in modo in modo approssimativo pare che si voglia dare priorità prima i concorsi per i quali era stata già svolta la prova preselettiva e poi tutti gli altri però considerando che le prove saranno svolte su base regionale per un concorso come funzionari giudiziari con 8.000 candidati guardate 8.000 candidati spalmati su 19 sedi regionali significa in media 400 persone per sede 500 persone per sede poi ovviamente ci saranno delle regioni in cui i candidati saranno 1000 delle regioni dove i candidati saranno 100 però significa comunque che tutte queste prove si potranno svolgere in un solo giorno magari in due turni proprio per editare assegnamenti ma in un solo giorno si potrà fare la prova scritta di funzionari giudiziari in un solo giorno la prova scritta degli assistenti MIBAC e via discorrendo cioè i tempi con la distribuzione dei candidati in tante sedi regionali è evidente che poi possano essere decisamente più veloci che non lo svolgimento di prove tutte quante con i candidati tutti quanti concentrati in un'unica sede poi grazie allora tanti vedo che chiedono anche le date di uscita del bando IMS un lettore dice il bando IMS esce il prossimo venerdì già il 2 aprile o il 9 aprile comunque aprile insomma io ormai da qualche settimana ve lo sto dicendo era previsto tra fine marzo e aprile inizialmente si pensava già a febbraio poi comunque insomma c'è stato qualche piccolo ritardo ma nulla di grave quindi aspettatevelo per aprile può anche darsi dopo Pasqua o addirittura questo venerdì ma comunque ad aprile aspettatevi il nuovo bando IMS altre due domande gentile prof Cotruva qualche notizia sulle prime prove dei 95 funzionari giuridico pedagogici e 45 dirigenti penitenziali del ministero della giustizia grazie mille sono prove che saranno sbloccate a breve per i funzionari giuridico pedagogici credo che anche in quel caso il ministero della giustizia si è preso qualche giorno di tempo in più per indicare poi lo svolgimento delle prove e le modalità perché ancora una volta stanno aspettando poi l'atto ufficiale del governo il decreto del governo dopo il quale poi come vi dicevo si sbloccherà tutto quanto quindi nei prossimi giorni dovete avere pazienza alcuni giorni tra questa settimana e la prossima settimana diciamo per metà aprile intorno al 15-20 aprile di molte prove conoscerete i diari di svolgimento quindi entro il mese di aprile conoscerete insomma il diario di svolgimento di molte prove tra cui i funzionari giuridico pedagogici verosimilmente è uno di quei concorsi che potrebbero essere svolti già a maggio tra maggio e giugno saranno svolti sia i dirigenti penitenziari sia i funzionari giuridico pedagogici aggiungo un commento professore sul sito del ministero della giustizia per questi due concorsi sono stati pubblicati gli avvisi che annullano diciamo le precedenti indicazioni sulle prove e prevedono una nuova comunicazione del calendario il 12 aprile quindi dal 12 aprile sapremo effettivamente se verrà sblocata la situazione e come si quello che vi dicevo per dare delle indicazioni più precise è normale è ovvio che i ministri poi attendano prima la pubblicazione dei decreti che di cui si sta parlando negli ultimi giorni cioè il decreto covid e il decreto semplificazione e poi si orienteranno di conseguenza quindi dovete avere ancora proprio pazienza alcuni giorni o al più qualche settimana entro insomma alla fine di questo mese conoscerete le date ufficiali e le modalità di svolgimento di molti concorsi che sono stati banditi anche lo scorso anno poi ok questa è una domanda un po' più basica ma è per fare un riassunto che in tanti la stanno chiedendo per le prove che si svolgeranno in modalità telematica come sarà possibile svolgere esercizi di logica che necessitano di calcoli che di solito facciamo con carta e penna ci daranno la possibilità di svolgerli su fogli bianchi è già capitato negli ultimi mesi alcune amministrazioni hanno già svolto delle prove al computer soprattutto inizio anno nei primi mesi dell'anno è già capitato e vi dico che in quelle prove dove c'erano domande di logica matematica hanno dato la possibilità di scrivere su di un foglio la commissione ha dato questa possibilità per cui state tranquilli è ovvio che se ci sono da svolgere dei calcoli da fare una serie di ragionamenti con carta e penna poi vi daranno carta e penna diciamo che la carta generalmente i fogli e poi direttamente la commissione che fornisce i fogli in questi casi però lo stanno facendo o addirittura questo però io l'ho visto in esperienza all'estero dove da più tempo i concorsi vengono svolti al computer ci sono alcuni concorsi tipo quelli dell'epso dove ho visto che l'epso è l'organismo che si occupa dell'organizzazione dei concorsi per l'accesso ai ruoli della comunità europea funzionari o altri ruoli insomma dalla comunità europea lì da tanto tempo le prove vengono svolte al computer e addirittura per le prove di logica matematica poi se ci sarà tempo in uno dei prossimi webinar vi mostrerò anche dei quiz perché ce ne sono alcuni che sono bellissimi bellissimi visto che Brunetta ha detto dobbiamo internazionalizzare il sistema quale occasione migliore per mostrarvi i proprio quiz tipo quelli che vengono assegnati per l'accesso alla comunità europea vi dicevo per una sezione delle prove di logica che loro svolgono è basata sulla comprensione delle tabelle quindi vengono dati dei quiz con delle tabelle o dei grafici e sono quei quiz dove poi bisogna insomma svolgere dei calcoli delle percentuali eccetera in quel caso loro addirittura mettono a disposizione la calcolatrice cioè sul computer che viene dato per lo svolgimento della prova c'è anche la calcolatrice perché in quel caso quello che la commissione vuol vedere è se il candidato ha la capacità di ben impostare il quiz non tanto se è capace a svolgere i calcoli ma proprio se è veloce ed è capace efficiente efficace nella impostazione del quiz dopo aver letto le informazioni che sono contenute nella traccia o nella tabella o nel grafico che viene indicato quindi addirittura in quel caso mettono a disposizione la calcolatrice ma è direttamente sul computer la calcolatrice del computer cioè i candidati non possono portare da casa una calcolatrice o ancora in altri concorsi che ho visto all'estero addirittura loro danno la possibilità di usare una sorta di lavagnetta cioè tipo quello che io faccio scrivendo sullo schermo del mio computer gli danno una pencil come si dice in termini tecnici una penna diciamo digitale per poter scrivere direttamente sullo schermo del computer non credo che in Italia insomma diano questi a meno che qualche struttura non abbia già dei tablet con la possibilità di scrivere insomma anche sullo schermo può anche darsi visto che ormai i costi insomma non sono nemmeno più tanto elevati ma sono accessibili quindi può anche darsi che optino per questa tipologia di tablet o altrimenti è capitato nelle settimane nelle ultime settimane che è capitato ad esempio un concorso in Basilicata ve lo dico con certezza perché ha partecipato un mio corxista questo mio corxista mi diceva c'erano delle domande dove andavano calcolate delle percentuali risolte dalle equazioni eccetera e in quel caso concorso che si è svolto con la modalità proctoring quindi con i candidati che sono rimasti a casa diciamo e in quel caso comunque la commissione ha consentito al candidato di poter svolgere i calcoli con un foglio e quindi non ci sono stati problemi quindi state tranquilli da questo punto di vista grazie un'ultima sono arrivate due domande interessanti una sul concorso centri per l'impiego Lombardia se ci sono novità riguardo diciamo anche in generale aspettano tutte lo ribadisco a quello che ho detto poco fa tutte le amministrazioni a questo punto ma giustamente secondo me è anche un atto di buon senso aspettano i decreti del governo Draghi il decreto covid e il decreto semplificazioni per capire poi come organizzare le prove seguenti quindi dovete avere pazienza alcuni giorni il decreto covid già forse questa sera ci sarà o al più domani insomma mentre il decreto semplificazioni è atteso per la settimana prossima dopodiché le varie amministrazioni tra cui la regione Lombardia decideranno come e quando organizzare le prove comunque la regione Lombardia ha fretta e urgenza di svolgere le prove quindi aspettatele probabilmente anche per maggio o giugno o al più dovrebbero insomma celebrarsi poi su come saranno celebrate attendono il decreto e poi si muoveranno di conseguenza ok grazie il vincolo quinquennale nella scuola potrà essere ritirato per il prossimo anno scolastico ci sono novità in merito? al momento novità ancora no anche questa è una cosa che i sindacati alcuni sindacati almeno hanno anche proposto e quindi bisogna capire insomma quale sarà l'orientamento che vorrà prendere poi il ministro diciamo che alcuni sindacati dicevano visto che c'è tanta carenza in molte scuole in molte cioè favorire gli spostamenti di quei docenti che lavorano a centinaia di chilometri da casa quindi può anche darsi che venga eliminato visto che in questo periodo molte cattedre sono vacanti quindi più facile anche a consentire a eventuali mobilità però dobbiamo aspettare poi le indicazioni e i passi che vorrà portare avanti diciamo le azioni concrete che vorrà portare avanti il ministro il nuovo ministro si chiama Bianchi giusto il nuovo ministro regia lei me lo conferma quindi aspettiamo il ministro Bianchi anche per poi anche lo svolgimento proprio del concorso addirittura lì si parla della cioè la Lega che sta insistendo molto come partito politico su un'assunzione a prescindere di tutti quanti i precari non sappiamo se insomma potrà andare in porto in tempi brevi però la Lega sta insistendo molto su questo aspetto sono delle decisioni e una di quelle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni quindi il mese di aprile sarà insomma un mese proprio ricco 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 di novità perché poi è il mese che precede l'avvio quello importante della stagione dei concorsi quella dopo oltre un anno di sospensioni importanti e quindi ad aprile e quindi nei prossimi giorni saranno definite un bel po' di cosette e poi maggio, giugno eccetera ci sarà diciamo la fase attuativa delle decisioni prese nei prossimi giorni quindi dovete avere pazienza ancora alcuni giorni ok grazie è arrivato l'ultima poi mi fermo può proseguire con i quiz ci saranno futuri webinar sui quiz situazionali che verranno somministrati nei prossimi concorsi allora questi quiz situazionali io l'ho detto in varie situazioni poi se ci sarà modo insomma ne parliamo anche io ho avuto modo di parlare dei quiz situazionali nei corsi che insomma ho svolto in varie città la scorsa estate e continuerò a parlarne nei corsi che svolgerò poi a partire dal mese di maggio in nove città italiane lo dico insomma a quelle persone che poi me lo chiedono se i corsi sono diciamo confermati o meno vi dico sì sono confermati al massimo qualche data potrà subire uno slittamento di qualche settimana però proprio perché la stagione concorsuale sta ripartendo non possiamo rinviare insomma lo svolgimento dei corsi che diventano a questo punto proprio urgenti per chi soprattutto ha tardato in termini di preparazione facendosi disorientare dai tanti profeti di sventura di cui io varie volte ho parlato anche lo scorso anno oltre che insomma quest'anno quindi quello che mi sento di dire è cioè guardate continuate non inseguite le voci continuate a studiare serenamente perché comunque i concorsi si svolgeranno saranno svolti con sicurezza quello che dice Brunetta io sono d'accordo da questo punto di vista ma ripeto non perché lo dica Brunetta in realtà l'aveva detto anche il ministro D'Adone già il ministro D'Adone aveva avviato tutte quante le procedure per svolgere poi la stagione concorsuale con serenità adesso l'unica vostra preoccupazione al di là di tutto dovrebbe essere proprio accelerare nello studio non inseguite le voci quando ci saranno i documenti ufficiali i documenti ufficiali poi io stesso nei limiti delle mie possibilità i documenti principali li pubblico e poi ragioneremo sui documenti ufficiali diciamo così chiudiamo così questa linea di interventi che mi sembra la cosa più saggia che si possa dire lei è d'accordo regina? sono d'accordo sono d'accordo le domande principali dimmi dimmi le domande principali sono finite se vuole proseguire con i quiz sì perché poi ci avete inviato moltissime domande a cui insomma ci chiedete un aiuto tipo questa domanda che un po' mi ha sorpreso adesso non so quale utente ha inviato questa domanda perché la domanda dice l'equazione 2x-2y-1 quella 0 rappresenta cosa? una retta con coefficiente angolare uguale a 2 o una retta con coefficiente angolare uguale a meno 1 o uguale a meno 2 allora intanto una precisazione io dimostro questa domanda ma perché c'è stata chiesta altrimenti non l'avrei mostrata perché questa è una di quelle domande che non vi dovete aspettare una domanda del genere nei concorsi dove è indicata con precisione l'addizione matematica questa non è una domanda di logica matematica questa è proprio una domanda di matematica per essere più precisi è una domanda di geometria analitica si dice così la risolviamo non è un problema risolverla per l'amore del cielo insomma io da tempo organizzo insomma e svolgo corsi anche di preparazione di teste di ammissione anche se quelli li svolgo solamente in Puglia dove tra le varie materie oltre alla logica c'è anche proprio la matematica ma nei concorsi pubblici non perdete tempo con queste domande perché nei concorsi pubblici generalmente tranne pochissime eccezioni come il recente concorso della regione Piemonte dove tra le domande c'era tra le materie per la presa elezione c'era proprio hanno indicato matematica come materia per la presa elezione oppure alcuni concorsi della Banca d'Italia dove hanno inserito come edizione la matematica in altri concorsi non aspettatevi domande di questo tipo perché queste sono proprio hanno meno a che fare con il ragionamento logico hanno molto più a che fare proprio con la matematica quella scolastica quindi questo come sottolineo per cui non spaventatevi e rispondo a quella persona che probabilmente insomma si sta preparando per la Banca d'Italia o per qualche concorso magari militare dove comunque ci sono a volte anche domande di matematica allora sicuramente parliamo di una retta in geometria analitica le equazioni di primo grado in x e y generalmente rappresentano delle rette e come si individua il coefficiente angolare per individuare il coefficiente angolare bisogna esplicitare la retta che significa esplicitare la retta la retta dovete averla nella forma y uguale ad mx più q dove il coefficiente angolare è questa m e q è chiamata in vari modi ad esempio alcuni la chiamano intercettività all'origine però questo ci interessa poco in questo caso la domanda non ci chiede di individuare q ma ci chiede di individuare m il coefficiente angolare è questa m cioè che cos'è la m è il numerino che sta davanti alla x cioè il coefficiente della x se vogliamo essere più precisi che nelle rette che è in geometria analitica viene indicato viene chiamato in modo più preciso come coefficiente angolare e come si fa ad esplicitare l'equazione che è stata fornita questo 4x meno 2y meno 1 uguale a 0 allora lo scrivo qui sotto così diventa un po' più chiaro quindi 4x meno 2y meno 1 uguale a 0 quello che dobbiamo fare vedete dobbiamo arrivare a questa forma y uguale ad mx più q cioè la y dobbiamo fare in modo che resti da sola a sinistra dell'uguale quindi per farla restare da sola a sinistra dell'uguale io la prima cosa che devo fare è portare il termine 4x e il termine meno 1 entrambi li porto a destra dell'uguale e portandoli a destra dell'uguale ricordate nelle equazioni quando dei termini si portano da una parte all'altra dell'uguale bisogna cambiare il segno quindi portandoli a destra dell'uguale 4x diventerà meno 4x e meno 1 diventerà più 1 cioè avremo meno 2y uguale a meno 4x più 1 quindi questo è il primo passaggio poi se volete come secondo passaggio visto che il termine con la y ha un meno davanti quando c'è il meno davanti io posso cambiare il segno di tutti quanti quindi sia del meno 2y sia del meno 4x sia del più 1 cambio i segni di tutti quanti quelli meno diventano più quelli più diventano meno e quindi avrò che 2y è uguale a 4x meno 1 e poi ultimo passaggio io all'inizio dicevo la y deve restare da sola io in questa forma vedo che davanti alle y non è da sola alle y c'è un 2 come faccio ad eliminare questo 2 divido tutti i termini per 2 in questo modo e quindi 2 2 qui va via e resta y uguale guardando questo termine 4 e 2 li posso semplificare 4 diviso 2 diventa 2 e quindi ottengo 2x e poi meno un mezzo quindi sono arrivato alla forma esplicita della retta qual è il coefficiente angolare? il coefficiente angolare è il numerino che è davanti alla x e questo 2 e quindi la risposta corretta sarà la retta con coefficiente angolare uguale a 2 lo dico ancora una volta sarò monotono fa nulla mi raccomando queste non sono domande di logica o che è corretto definire come domande di logica queste sono domande che ve le dovete aspettare quando nei concorsi usano l'indicazione matematica ma se nel concorso che state preparando non c'è l'indicazione matematica non perdete tempo su questa tipologia di domande a meno che non siate voi appassionati e vogliate comunque sia prepararli se nel bando di concorso c'è scritto logica matematica non aspettatevi queste domande aspettatevi altre domande come quelle che io adesso commento di seguito tipo questa domanda la numero 4 dice quanti sono i divisori con resto nullo del numero 101 e 100 compresi queste sono quelle domande che hanno introdotto in alcuni concorsi tipo funzionari giudiziari eccetera dove c'erano delle domande che avevano a che fare con la divisibilità dei numeri e allora 100 vi dovete chiedere per che cosa è divisibile beh intanto è un numero pari quindi è divisibile per 2 poi è divisibile per 3 come si fa a vedere se un numero è divisibile per 3 si sommano le cifre del numero cioè 1 più 0 più 0 e se ottengo un multiplo di 3 il numero posso dire che è divisibile per 3 ma in questo caso sommando 1 più 0 più 0 ottengo 1 e 1 non è una quantità divisibile per 3 quindi certamente il numero non è divisibile per 3 poi mi chiedo è divisibile per 4 il numero? sì quando un numero è divisibile per 4 quando termina con almeno 2 0 non è l'unico caso ma se il numero termina con almeno 2 0 certamente è divisibile per 4 poi è divisibile per 5 il numero? sì tutti i numeri che finiscono con 0 o con 5 sono divisibili per 5 siccome 100 finisce con 0 certamente è divisibile per 5 poi 6 non lo prendo proprio in considerazione perché se 100 non è divisibile per 3 nemmeno sarà divisibile per i multipli di 3 come 6 9 12 15 cioè tutti questi numeri non li considero proprio 7 lasciamolo stare perché insomma non è inutile anche pensare al 7 poi ci vorrebbe troppo tempo l'altro diciamo multiplo l'altro numero per il quale certamente 100 è divisibile è 10 e già qui è inutile anche pensare agli altri divisori perché guardando le risposte sono già 2 4 5 10 sono già 4 numeri diversi in più deve la domanda mi dice che devo considerare anche 1 e 100 tutti i numeri sono divisibili per 1 e per se stessi quindi ci sarebbero questi ulteriori 2 divisori quindi siamo già a 6 numeri che abbiamo individuato nelle risposte quindi la A2 non può essere la C4 non può essere evidentemente deve essere la B9 è inutile perdere tempo anche nelle individuazioni degli altri comunque sia gli altri sono 20 perché i numeri che finiscono con due zeri sono certamente divisibili sia per 20 sia per 25 sia per 50 e quindi con questi altri credo di non aver dimenticato nulla abbiamo 1 100 20 50 25 sono già 5 numeri più 2 4 5 10 arriviamo a 9 e quindi a maggior ragione possiamo dire che la risposta corretta è la risposta è la risposta B quindi spero di avervi fatto capire insomma come ragionare però non serviva nemmeno ripeto individuare tutti gli altri che io ho elencato dopo poi vedo questa domanda quanto tempo occorre per avere una preparazione sufficiente ad affrontare i concorsi che ho citato poco fa sempre considerando che non mi sono mai perciato allo studio di teologico dei concorsi INPS, LOGAN e INEIL allora questa domanda sul tempo che è necessario per la preparazione di un concorso non ha una risposta univoca e la risposta guardate ragazzi è molto soggettiva cioè spesso mi chiedete ma professore quanto tempo dovrei dedicare è difficile dirlo perché dipende dal vostro percorso di studi dipende da dalla vostra forma mentis dipende da quanto tempo avete ogni giorno da dedicare allo studio cioè dipende davvero da tante da tante incognite quindi ci sono delle persone che magari a cui potrebbero bastare due, tre mesi quattro mesi per preparare un concorso ci sono delle persone che da anni stanno a studiare i concorsi e non riescono a superare un concorso quindi e darvi proprio una indicazione temporale precisa è complicatissimo io quello che vi dico è che se andate avanti con modalità disordinate di studio è normale che poi perdiate molto più tempo nella preparazione di un concorso ci sono persone che da mesi 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 sono lì in varie chat con whatsapp con tele con facebook eccetera stanno lì a confrontarsi tra di loro e che è anche una cosa positiva sotto alcuni punti di vista però non si rendono conto che andando avanti in questo modo in modo molto disordinato perché oggi io parlo delle prugne domani Alice parla delle melanzane dopo domani Alberto parla delle albicocche cioè si si passa di palo in frasca e così si finisce per allungare molto i tempi di preparazione di un concorso quindi un concorso che potrebbe essere preparato in alcuni mesi magari va a finire che ci sono utenti che ripeto sono lì da anni e stanno a perdere tempo da anni a confrontarsi e non riescono mai a centrare e a tagliare il traguardo quindi quello che mi piace trasmettervi è questo dare un'indicazione precisa su quanto tempo selva è impossibile è impossibile perché comunque bisognerebbe conoscere bene la singola persona io poi non conoscendo la persona che mi ha posto questa domanda anche quando la si conosce è comunque difficile figuriamoci quando non la si conosce oltre questo in generale come consiglio cercate di essere ordinati nello studio cioè se avete deciso di affrontare un concorso se avete tanta volontà per rimetterli in gioco per colmare le lacune che ci sono in termini di preparazione di argomenti che non avete studiato in passato ma che comunque sono importanti per superare il concorso eccetera poi la fase seguente è la fase della organizzazione dello studio che dipende dai vostri impegni c'è chi ha solamente un'ora al giorno per studiare c'è chi ha dieci ore al giorno per studiare quindi poi in base al tempo che avete dovete organizzare lo studio in base proprio al tempo che avete voi a disposizione e alla vostra velocità in termini di comprensione dei vari concetti cercando di capire come sfruttare il vostro tempo se studiare prima singole materie e andare in ordine prima tutto il diritto amministrativo poi tutta l'informatica poi tutta la logica o se fare ogni giorno un po' di una materia e un po' dell'altra ripeto questo ancora una volta anche questo è un aspetto soggettivo quindi organizzatevi lo studio e cercate di capire con quali strumenti studiare è aspetto fondamentale una volta che avete capito di essere motivati e avete capito quanto tempo potete dedicare allo studio avete capito anche quali concorsi a affrontare diventa fondamentale capire come crearvi dei i tecnici dicono dei micro obiettivi cioè non non createvi una sorta di calendario con turni massacranti di studio che poi vi mettono ansia e frustrazione cioè se sapete che in una sola giornata voi al massimo potete svolgere dieci quiz faccio un esempio banale oppure al massimo potete leggere non più di dieci pagine di un libro inutile che vi create obiettivi del tipo io oggi studierò quaranta pagine perché sapete già in partenza che quell'obiettivo è molto improbabile o impossibile che lo raggiungiate e quindi se vi create una tabella di studio con obiettivi impossibili e poi andate in ansia e risultate frustrati createvi piuttosto una tabella di marcia con degli obiettivi facilmente raggiungibili per i vostri per le vostre abitudini per il vostro modo di essere voi sapete che normalmente mediamente volete studiare venti pagine nei vostri obiettivi di studio mettetene quindici pagine ogni giorno cioè questo non vi sembri un come dire un modo per sminire le vostre capacità perché purtroppo ogni giorno poi ci possono essere degli imprevisti dei contrattempi che non vi consentono di studiare tutto quello che vi sarebbe piaciuto fare e quindi poi si corre ripeto il rischio che tante cose si accumulino e questo poi vi mette frustrazione e iniziate a pensare di non essere in grado di raggiungere l'obiettivo quindi importante insomma seguire queste tappe motivazione organizzazione dello studio capire poi quali sono gli strumenti da adottare e come strumenti cercate di capire insomma quali sono anche come sfruttare al meglio il vostro tempo nel senso cioè fate proprio una riflessione sul tempo che avete a disposizione e il tempo che avete a disposizione iniziate a capire quali sono tutte le attività che potete sacrificare che ne so l'attività è quella di guardare la partita di calcio è brutto dirlo ma se la partita di calcio vi occupa troppo tempo che in realtà potreste dedicare allo studio cioè createvi proprio una una classifica delle delle vostre priorità per voi è più importante centrare l'obiettivo concorso o divertirti con gli amici guardando la partita di calcio cioè cercate di fare chiarezza anche da questo punto di vista perché poi sembrano delle banalità di eh vabbè ma io tanto oggi che vuoi che sia oggi anche se non studio poi lo farò domani poi lo farò dopo domani e in questo modo se iniziate a non crearvi degli obiettivi rigidi facilmente raggiungibili ma rigidi cioè se io oggi ho deciso di fare 15 pagine io con le 15 pagine non vado a letto se non le ho studiate cioè dovete essere proprio molto molto fiscali con voi stessi ecco perché dico non è fondamentale crearvi una tabella con obiettivi con macro obiettivi quelli incredibili perché quello vi metterà in maggiore ansia createvi una tabella con piccoli obiettivi ma quei piccoli obiettivi devono essere raggiunti ogni giorno e vedrete che poi piano piano insomma riuscirete a ottenere dei risultati e in questa tabella cercate di capire insomma quali sono le cose che a voi sono più vantaggiose eliminando tutte le perdite di tempo e vedrete che in tanti aspetti della vostra vita ci sono tante cose che potete eliminare io generalmente che ne so trascoglio un'ora di tempo a telefono vuol dire che quando parlate con gli amici dovete essere sintetici li riducete invece di stare un'ora dieci minuti cinque minuti salutate cioè guardate ripeto fate proprio mente locale vi renderete conto di quanto tempo ogni giorno potete risparmiare con piccoli accorgimenti che è una cosa fondamentale così come io vedo tante persone che stanno lì a polemizzare sui social su eh Brunetta ha detto questo eh quell'altro ha detto questo eh quell'altro ha detto questo state prendendo tempo minuti preziosi che avreste invece voluto dedicare allo studio quindi questi sono gli elementi gli ingredienti gli aspetti che dovete adottare per raggiungere poi una preparazione adeguata poi se se a Filippo serva eh un giorno o a Paolo serva un mese o a Federica serva un anno per prepararsi questo è una cosa troppo troppo soggettiva e eh insomma richiederebbe un'analisi proprio della delle eh caratteristiche della singola persona e ovviamente in questa fase non si può eh fare va bene poi c'era Sara che chiede questa domanda a Urania il 15% delle persone parlano russo il 20% parlano croato il 65% delle persone parlano serbo e la domanda ci dice se i parlanti croato sono 3500 quante persone vivono ad Urania allora siccome la domanda concentra l'attenzione su quelli che parlano croato e io vedo che la percentuale di persone che parlano croato è indicata qui sono il 20% quindi posso dire che 20% del totale 20% lo posso scrivere come frazione il totale lo posso indicare come x quindi posso dire che il 20% di x il d è sempre un prodotto in matematica ricordatevi questo quindi 20 centesimi per x so a quanto è uguale corrisponde a 3500 e in questo modo posso risolvere l'equazione e avrò 17500 oppure un altro modo per procedere è quello di impostare una proporzione se io so che 20% corrisponde a 3500 posso scrivere 20 sta a 3500 come il totale visto che la domanda ci chiede quante persone vivono ad urania come dire qual è il totale delle persone che vivono ad urania il totale corrisponde a 100% quindi come 100 sta a x e poi imposto la proporzione risolverò la proporzione moltiplicando i termini medi e dividendo per l'estremo noto quindi avremo 3500% diviso 20 o ancora un altro modo per risolverlo cioè se tu sai Sara che il 20% corrisponde a un quinto sai che un quinto è 3500 tutto quanto è 5 volte 3500 cioè è un po' come dire che hai una torta che è divisa in 5 fette se sai che una fetta è 3500 quanto vale tutta la torta 3500 per 5 quindi puoi fare anche velocemente puoi impostare velocemente questo calcolo e 3500 per 5 ti darà 17500 insomma questo per mostrarti come i quiz ancora una volta questa è una cosa che avrò detto tante volte ma mi piace essere monotono e poi qualcuno mi odierà per questo qualcun altro poi alla fine insomma mi ama per questo i quiz vanno studiati non accontentarti di individuare una singola strada per individuare la come dire la soluzione i quiz vanno studiati per cercare di capire quali sono i possibili approcci che ti possono aiutare ad individuare la soluzione corretta perché in questo modo acquisirai quella elasticità mentale che poi ti consentirà di risolvere in modo più efficiente e più efficace i quiz in sede concorsuale considerando che poi in sede concorsuale non sempre ti può venire in mente subito la strada che ne so dall'equazione se non ti viene subito in mente la strada dell'equazione tu devi sapere che ci possono essere altre strade da seguire la proporzione se non la proporzione è quello che ho detto prima 20% un quinto quindi vuol dire che il totale è 5 volte tanto tu qui non mi ha indicato le risposte corrette a volte si può arrivare alla risposta corretta partendo dalle risposte cioè procedendo in modo indiretto cioè ci sono tanti modi che vanno comunque tutti quanti studiati anche se questo comporta la necessità di restare su una singola domanda 20 minuti in mezz'ora non è importante cioè molti hanno la frenesia di dover studiare migliaia e migliaia di quiz e poi alla fine comunque più di tanto non migliorano perché effettuando troppi quiz e spesso troppo simili si finisce per agevolare l'aspetto mnemonico della preparazione quando invece a voi serve proprio l'aspetto del ragionamento e per acquisire delle ottime capacità di ragionamento la prima cosa da fare inizialmente è fregarsene del tempo quindi va bene anzi è molto meglio studiare pochi quiz ma studiarli seriamente piuttosto che farne migliaia e poi insomma senza che ottenere dei risultati eclatanti dei risultati importanti altra domanda che mi è stata posta queste prime domande che abbiamo deciso stamattina in chiedazione comunque a cui dare una risposta però notate che sono tutte domande guardate queste sono proprio domande basiche come dice la dottoressa Lottici sono davvero basiche come domande cioè significa che se me le state ponendo vuol dire che siete proprio all'inizio della preparazione ad esempio la domanda numero 2 dice in un archivio in ordine alfabetico decrescente che significa ordine alfabetico decrescente significa che iniziamo da Z Z sarebbe la prima lettera poi ci sono la V la U la U è uguale alla V la V la U poi la T la S eccetera fino ad arrivare alla A quindi dobbiamo seguire quest'ordine Z sarebbe il numero 1 la V numero 2 la U numero 3 e via discorrendo quindi mi dice in questo archivio in ordine alfabetico decrescente quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri e allora prendendo come riferimento le prime 6 lettere partendo da sinistra le prime 6 lettere partendo da sinistra da sinistra significa di qui le prime 6 lettere sono 1 2 3 4 5 6 cioè praticamente ci sta dicendo di concentrarci solamente su queste lettere 1 2 3 4 5 e 6 quindi prendendo come riferimento le prime 6 lettere partendo da sinistra io cosa vedo intanto la O è uguale in tutte e quindi questa O non mi aiuta la R è uguale in tutte cioè la seconda lettera è uguale in tutte quante le opzioni quindi non mi aiuta io ho una prima differenza ce l'ho sulla terza lettera che è R qui e R qui quindi questo magari mi può mi può aiutare in qualche in qualche modo cioè sicuramente la R viene prima della B in ordine alfabetico decrescente quindi questo mi induce a pensare che la B è improbabile che sia poi ho nella A e nella C la S in entrambe non mi aiuta poi ho la U e la Z la U e la Z beh sicuramente la Z viene prima della U perché sempre in ordine alfabetico decrescente come ho scritto qui nella parte qui accanto Z è 1 poi c'è la V che è 2 poi la U è 3 la S sarebbe la quinta in ordine alfabetico decrescente o la T sarebbe la quarta in ordine alfabetico decrescente eccetera quindi ragionando così prendendo come riferimento le prime 6 lettere partendo da sinistra attenzione non dice prendendo come riferimento la sesta lettera partendo da sinistra perché se avesse detto così la sesta lettera partendo da sinistra sarebbe Z nella risposta A R nella risposta B e U nella risposta C e quindi avrei detto che la prima sarebbe la A poi la U è la seconda e poi la R è la terza qui mi dice prendendo come riferimento le prime 6 lettere indipendentemente poi da altre considerazioni quindi nelle prime 6 lettere vuol dire che io a questo punto non mi posso fermare sulla quinta lettera abbiamo detto la B non può essere quella quella giusta perché guardando la terza lettera c'era la B e non la R e poi guardando la quinta lettera tra U e Z io direi che la C è la prima in ordine alfabetico del crescente poi ci sarà la A e poi in ultima posizione la B spero insomma di avervi fatto capire quindi in questo caso io vado ad indicare la risposta C ma anche questa guardate è una domanda insomma abbastanza davvero basica per chi chi me l'ha posta probabilmente qualche lacuna importante qualche domanda dovrebbe dovrebbe porsela oppure ancora un'altra domanda che è stata posta spesso ci state postando delle domande sulla velocità in effetti in molti degli ultimi concorsi sono capitate varie domande sulla velocità quindi un argomento che è importante studiare in modo opportuno ad esempio questa che state notando adesso dice Alfonso Pedale in Dici ha una velocità costante di 45 metri al minuto questo è Alfonso mentre Marisa va avanti ad una velocità costante di 0,8 metri al secondo questa è Marisa e se partono insieme lungo lo stesso percorso quanti metri li separano dopo un'ora cioè praticamente la domanda vi sta chiedendo in un'ora di tempo Alfonso quanta strada ha fatto Marisa quanta strada ha fatto considerando che entrambi partono dallo stesso punto allora Alfonso con 45 metri al minuto in un'ora di tempo un'ora a 60 minuti quindi vuol dire che in un'ora di tempo avrà fatto Alfonso 45 metri per 60 perché ogni minuto fa 45 metri quindi in un'ora cioè in 60 minuti avrà fatto 45 per 60 questo è Alfonso e 45 per 60 bisogna calcolarlo 45 per 2 90 per 3 a me fa 2700 secondo la mia calcolatrice mentale mentale mentre in merito a Marisa Marisa sappiamo che fa 0,8 metri ogni secondo ma chiedetevi in un'ora di tempo perché noi dobbiamo riportare i dati comunque rispetto ad un'ora in un'ora di tempo quanti secondi ci sono? In un'ora di tempo ci sono 3600 secondi quindi vado a moltiplicare per 3600 e secondo la mia calcolatrice mentale qui vi do un suggerimento visto che c'è 0,8 0,8 trasformato in frazione sarebbe 8 decimi quindi come fare 3600 moltiplicato per 8 decimi e quindi il 10 va via con lo 0 e poi si tratta di moltiplicare 360 per 8 moltiplicare per 8 io generalmente per farlo a mente faccio 3 volte il doppio nel doppio di 360 è 720 il doppio di 720 è 1440 e il doppio di 1440 è 2880 quindi vuol dire che Marisa avrà fatto 2880 metri e da 2700 a 2880 c'è una differenza di 180 metri cioè vuol dire che Marisa sarà avanti rispetto ad Alfonso di 180 metri la domanda ci dice quanti metri li separano dopo un'ora saranno per l'appunto 180 metri quindi la risposta da indicare come risposta corretta è la in questo caso la risposta B e qui ulteriore osservazione guardate quanto è importante in un esercizio come questo essere molto veloci con i calcoli io lo dico poi chi se ne frega poco importa io continuerò a dirlo mi raccomando i calcoli perché chi è bravo con i calcoli solo ragionando e svolgendo in modo efficiente i calcoli può risparmiare decine di secondi non sto esagerando decine di secondi io ho visto persone perdersi in questa moltiplicazione di 0,8 per 3.600 che dovrebbe essere una moltiplicazione molto semplice tante persone si sono davvero se diventate bravi nell'impostazione dei calcoli poi questo è uno degli elementi fondamentali per migliorare in modo deciso nello svolgimento dei quiz dove ovviamente c'è logica matematica altra domanda che mi chiedono in una scheda del testo per la preparazione del concorso di IPAM sull'algebra è scritto che nell'equazione 77 in una scheda del testo non so se fa riferimento al mio testo al mio libro però vabbè per la preparazione del concorso di IPAM sull'algebra è scritto che nell'equazione 77 uguale a 2 più 20 fratto 2 per n quindi mi fai pensare che sia scritto così 2 più 20 fratto 2 per n il risultato è n7 come si risolve l'equazione per ottenere il numero 7 beh come si risolve intanto devo fare la somma di 2 più 20 2 più 20 è 22 quindi avrò 77 uguale a 22 fratto 2 per n ma 22 e 2 vi posso semplificare perché sono entrambi numeri pari 22 diviso 2 è 11 quindi ho che 77 è uguale a 11n e poi n come faccio a trovarlo questa è praticamente un'equazione dovete ragionare come si farebbe con le equazioni cioè divido tutto quanto per 11 cioè per il coefficiente della n in modo tale che 11 e 11 va via n è uguale a 77 diviso 11 c'è uguale a 77 ancora una volta guardate quando mi ponete queste domande mi fate preoccupare perché significa che siete proprio molto indietro in termini di preparazione per cui se state studiando semplicemente confrontandovi con qualcuno sappiate che andando avanti così ci vogliono anni per raggiungere dei livelli efficienti di preparazione per cui in queste situazioni non state a porvi domande su quale libro acquisto piuttosto dovete chiedervi ma sapete che dovete organizzarvi in modo ottimale per lo studio perché se andate avanti così se avete queste difficoltà vuol dire che ci metterete davvero anni cioè io ve lo dico ci vogliono anni per raggiungere dei buoni livelli questa è una di quelle situazioni in cui chiedetevi come posso fare ad accelerare per raggiungere una buona preparazione perché se non avete capito come svolgere questo tipo di esercizio vuol dire o che state usando libri sbagliati o che probabilmente è possibile abbiate bisogno di un surplus di di cioè che un libro può anche darsi che non vi basti che abbiate bisogno di strumenti decisamente più più solidi più importanti per raggiungere una buona preparazione tipo insomma anche chiedere delle lezioni di ripetizione o se avete qualcuno in famiglia che vi può dare una mano un fratello un nipote un cugino se volete ci sono i corsi che ha organizzato il professor Codruvo se vi sta antipatico il professor Codruvo andate a corsi però mi raccomando scegliete dei corsi degni corsi fatti bene che davvero vi possano dare una mano se volete i miei corsi andate sul mio sito metodocodruvo.com e troverete una serie di iniziative che si svolgono in diverse città oppure mandatemi un messaggio su Codruvo Test e concorsi sulla mia pagina ufficiale di Facebook se volete dei libri guardate di nostri libri ormai trovate un libro per il maese un libro per il concorso Arts Sicilia un libro per l'agenzia delle entrate stiamo lavorando per l'aggiornamento anche dei libri in modo particolare il libro sulle prove ufficiali e se tutto va bene tra qualche settimana sarà disponibile cioè trovate varie varie possibilità se non vi piacciono i libri del professor Codruvo la cosa fondamentale cercate di capire quali strumenti vi possono aiutare troverete magari andate in libreria quando le riaprono troverete degli strumenti che insomma vi possono aiutare a migliorare però certamente chi pone una domanda di questo tipo mi fa allarmare vi dico cioè vuol dire che se mi avete fatto questa domanda vuol dire che vi siete molto molto indietro sulla preparazione ma molto indietro sulla preparazione detto questo vediamo quest'altra domanda che mi è stata posta non ricordo da chi ma qui la domanda diceva rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla figura va bene il rapporto tra la frazione che rappresenta la parte bianca sul totale della figura 1 e quella che rappresenta la parte nera sul totale della figura 2 allora partiamo dalla prima parte della domanda cioè dobbiamo capire il rapporto tra la frazione che rappresenta la parte bianca sul totale della figura 1 quindi questa è la prima parte questa frazione che rappresenta la parte bianca della figura 1 allora dobbiamo cercare di scomporle queste figure ad esempio per la figura 1 seguendo questa linea io la scomporrei così oppure da qui prolungando questa linea la scompongo così prolungando questa linea verticale la scompongo così e già la suddivisa in 4 quadrati il quadrato 1 il quadrato 2 il quadrato 3 è il quadrato 4 e cosa noto in merito al quadrato 1 e al quadrato 3 se io questo quadratino nero lo portassi qui in alto posso dire e questo me ne frego posso dire che la parte nera di 1 e 2 oppure anche in modo più semplice perché magari così vi imbroglio nel quadrato 1 se questo io lo divido così con una croce centrale la parte bianca visto che la domanda mi chiede è fatta da 3 quadrati su 4 cioè i 3 quarti della figura è bianca per il quadrato 2 quanto vale il bianco? quando avete un triangolo inscritto in un quadrilatero il triangolo occupa la metà della superficie del quadrilatero cioè anche se aveste un parallelogramma cioè una figura del genere così e c'è inscritto un triangolo cioè la base del triangolo corrisponde ad una base della figura così questo triangolo cioè tutta questa parte qui corrisponderebbe alla metà dell'intero parallelogramma quindi questo funziona sempre ricordatevi questa regoletta quindi in merito al quadrato 2 la parte bianca sarà la metà del quadrato cioè il bianco è pari ad un mezzo per il quadrato 3 la parte bianca come per il quadrato 1 sono 3 quarti per il quadrato 4 la parte bianca è la metà quindi un mezzo e a questo punto dobbiamo capire complessivamente insomma questo bianco a quanto corrisponde ovvero per il quadrato 1 il quadrato 1 cioè tutto questo quadrato non è altro che un quarto della figura anche questo quadrato 2 è un quarto della figura anche questo quadrato 3 è un quarto della figura e in merito al quadrato 1 quindi il bianco è pari ai 3 quarti del quadrato 1 cioè 3 quarti del quadrato 1 ma il quadrato 1 a sua volta è un quarto della figura quindi possiamo dire che il bianco è i 3 quarti di un quarto e il d l'ho detto prima corrisponde a un prodotto nel quadrato 2 il bianco è la metà del quadrato 2 ma il quadrato 2 è un quarto dell'intera L quindi sarà un mezzo per un quarto della figura per il quadrato 3 il bianco sono i 3 quarti di un quarto quindi più 3 quarti per un quarto per il quadrato 4 il bianco è praticamente avevo detto prima ancora una volta la metà di un quarto quindi questo in modo un po' più come dire un modo un po' più lungo in modo più smart se avete capito che nel quadrato 4 il bianco è la metà e nel quadrato 2 il bianco è la metà quindi io è come se avessi un quadrato bianco cioè se questo bianco lo unisco al bianco del quadrato 2 otterrei un quadrato interamente bianco e poi guardate che il quadrato la parte bianca dei quadrati 1 e 3 cioè 3 quarti più 3 quarti 3 quarti più 3 quarti diventa 6 quarti cioè come dire che avrei ancora 1 quadrato e mezzo bianco quindi come dire che io ho 2 quadrati e mezzo bianchi se fate se per chi ha maggiore facilità in queste in questi ragionamenti un po' più spaziali rispetto ai 4 quadrati complessivi in cui ho diviso la L e ovvero 2 mezzi su 4 se moltiplico tutto quanto per 2 così tolgo la virgola diventa 5 ottavi quindi posso dire che il bianco nella L è pari a 5 ottavi oppure devo sviluppare la serie di prodotti che ho scritto in alto e quindi avrei 3 quarti per un quarto cioè 3 sedicesimi più un mezzo per un quarto cioè più un ottavo più 3 quarti per un quarto che è 3 sedicesimi più un mezzo per un quarto che è un ottavo come svolgo questo calcolo minimo comune multiplo che è 16 e poi avrò 16 diviso questo 16 mi da 1 per il 3 che sta sopra 3 poi 16 diviso questo 8 da 2 per l'1 che sta sopra 2 16 diviso 16 da 1 per 3 3 16 diviso 8 da 2 per 1 2 e quindi in definitiva avrò ottenuto 3 più 2 5 più 5 10 ottengo 10 sedicesimi e 10 sedicesimi semplificato dividendo per 2 dividenta 5 ottavi quindi ottengo lo stesso risultato poi decidete voi insomma come per voi è più agevole arrivarci quindi questa è la prima parte della traccia io capisco che la parte bianca della figura 1 è pari ai 5 ottavi dell'intera figura la frazione che rappresenta la parte bianca sul totale della figura 1 cioè dire la parte bianca è 5 ottavi sul totale dovrei fare diviso tutta la figura 1 ma la figura 1 quando parliamo di frazioni l'intero corrisponde a 1 quindi dovrei fare 5 ottavi diviso 1 ma 5 ottavi diviso 1 è comunque 5 ottavi quindi per la prima parte della traccia ho individuato questa frazione 5 ottavi poi c'è la seconda parte della traccia che dice quella che rappresenta la parte nera sul totale della figura 2 allora dobbiamo provare a dividere anche questa figura 2 concentrandoci sulla parte nera e anche qui se seguite le linee che vedete io questa prima linea la proseguo questa seconda linea nera la proseguo così di qui proseguo così e capisco che devo dividere evidentemente a metà anche gli altri due settori in questo modo e quindi praticamente ho scomposto la figura in 1, 2, 3, 4, 5 quindi la parte nera di questa figura 2 come ci chiedeva la traccia vediamo in caso ricordo male no la parte nera è pari a 3 ottavi sul totale della figura 2 c'è diviso 1 e comunque 3 ottavi quindi ottengo queste due frazioni 1 ai 5 ottavi e 1 ai 3 ottavi ma la domanda all'inizio mi diceva che devo fare il rapporto tra queste due frazioni cioè dovrei fare 5 ottavi fratto 3 ottavi ovvero 5 ottavi per quando abbiamo una frazione di frazione e una frazione che in basso si inverte quindi diventa per 8 terzi poi 8 e 8 si semplifica e quindi ottengo 5 e 3 ovvero la risposta B insomma questo per in realtà lo si potrebbe fare anche in modo leggermente più veloce però mi piaceva in questo caso mostrarvi tutti quanti i possibili calcoli guardate questa è una di quelle domande che io spiego su alcuni miei volumi ad esempio nel volume INPS il volume con le prove ufficiali dell'INPS troverete queste domande delle video lezioni in cui io spiego queste domande quindi credo anche nel volume dell'agenzia dell'entrata troverete delle domande in cui io spiego come ragionare in questi casi con delle video lezioni su come ragionare in questi casi il volume per i 1243 funzionari amministrativi o tributari dell'agenzia dell'entrata volume che è già disponibile quindi se volete avere una formazione un po' più completa andate a vedere a leggere e a studiare anche questi questi volumi poi ancora oggi ci soffermiamo in questa lezione pre-pasquale insomma abbiamo deciso di dare un po' più di spazio ai vostri dubbi sulla sulle domande di logica considerando che poi magari la settimana prossima quando ci saranno anche i decreti avremo bisogno di più tempo da dedicare per l'analisi dei decreti e allora questa domanda numero 2 dice Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche dei quaderni se regalasse 9 quaderni a ciascuna delle sue amiche e ne tenesse altrettanti per sé avanzerebbero 9 quaderni se si escludesse le altre ne avrebbero 12 a testa quante sono le amiche di Alessandra? guardate questa domanda credo di averla simile almeno in termini di impostazione credo di averla già già descritta in un precedente webinar quindi andate a vedere i precedenti webinar li trovate sul canale youtube del gruppo Maggioli o se volete andare sul mio gruppo youtube sul mio canale youtube lo trovate come metodo troverete una playlist dove ho raccolto tutti i webinar che ho realizzato con la casa editrice Maggioli e in uno di questi ho già avuto modo di commentare questa domanda velocemente quindi non perdo tanto tempo nelle spiegazioni velocemente qui la domanda dice che abbiamo con questa Alessandra che deve dividere dei libri con le amiche io non so quante sono le amiche però le posso indicare con x quindi x numero amiche Alessandra x più 1 sarebbero le amiche più Alessandra quindi amiche più Alessandra poi la domanda ci dice se regalasse nove quaderni a ciascuna delle amiche e ne tenesse altrettanti per sé quindi se decide di dare nove quaderni a tutte le amiche e nove quaderni a sé stessa ne avanzerebbero avanzerebbero nove quaderni che significa io posso calcolare qual è il totale dei quaderni sì come moltiplicando tutti i quaderni che Alessandra dà a sé stessa e alle amiche cioè siccome se stessa e amiche l'ho indicato con x più 1 in matematica quanti quaderni ha distribuito Alessandra x più 1 per 9 perché io ad ogni persona do nove quaderni compreso me stesso ecco perché x più 1 e in più mi dice ancora avanzano nove quaderni quindi devo aggiungere ancora un più 9 per avere il totale dei quaderni che sono che possiede Alessandra però poi abbiamo un'altra informazione la domanda dice se si escludesse cioè se i quaderni venissero dati solamente alle x amiche non a x più 1 cioè compresa se stessa ma solamente alle amiche le altre ne avrebbero 12 a testa quindi io posso ricalcolare il totale considerando questa addizione cioè dando 12 quaderni a ogni amica praticamente esaurisco i quaderni quindi 12 per le x amiche ma il totale calcolato nel primo modo non è diverso dal totale calcolato nell'altro modo sempre il totale dei quaderni e quindi gli posso mettere un uguale e in questo modo ottengo un'equazione come risolvo questa equazione x la moltiplico per 9 ottengo 9x 1 per 9 quindi più 9 più ancora 9 uguale a 12x questa è un'equazione abbastanza semplice questo se volete 9x lo posso portare dall'altra parte diventa meno 9x e 12 meno 9 è 3x 9 più 9 è 18 e quindi ottengo che 3x uguale a 18 come risolvo l'equazione 3 e 3 se ne va 18 diviso 3 è 6 e quindi capisco che x cioè le amiche sono pari a 6 la domanda mi chiedeva quante sono le amiche di Alessandra 6 la risposta c a volte attenzione che è impostata anche in modo diverso la domanda quindi leggete sempre tutte quante le informazioni potete chiedere quante sono le persone compreso Alessandra in quel caso avrei dovuto rispondere 7 non 6 perché con x indico solamente le amiche x più 1 amiche più Alessandra quindi questo per darvi un'indicazione veloce so che sono andato abbastanza velocemente in questa domanda ma ripeto perché avevo già avuto modo di descriverla in un altro webinar e mi avvicino alla conclusione cioè questa domanda che dice sapendo che Sara impiera la metà del tempo di Lorenza a confezionare un abito e che le due insieme in un giorno confezionano tre abiti quanti abiti confeziona Sara in cinque giorni allora Sara impiera la metà del tempo di Lorenza a confezionare un abito che significa significa che Sara è molto più veloce di Lorenza cioè se Sara confeziona due abiti Lorenza ne confeziona uno solo perché nello stesso tempo Sara se Sara impiera la metà del tempo vuol dire che nello stesso tempo di Lorenza se Lorenza fa x Sara fa il doppio del lavoro perché è veloce il doppio dovete ragionare al contrario in questo caso questa è Sara e questa è Lorenza e se sappiamo che le due insieme in un giorno confezionano tre abiti quindi se in un giorno queste due insieme confezionano tre abiti vuol dire che in un giorno due saranno gli abiti che ha fatto Sara e uno sarà l'abito che ha fatto che ha fatto Lorenza ok oppure ragionate così se in un giorno Lorenza fa un abito Sara che è molto più veloce che impiera a metà del tempo vuol dire che in mezza giornata fa un abito nell'altra mezza giornata fa l'altro abito e quindi vuol dire che Sara ha fatto due abiti quindi complessivamente in un giorno due sono gli abiti che ha fatto Sara uno è l'abito che ha fatto Lorenza ho cercato di darvi una spiegazione anche così un po' più smart senza necessariamente usare le equazioni la domanda ci chiede quanti abiti confeziona Sara in cinque giorni se in un giorno Sara ne fa due in cinque giorni ne farà due per cinque dieci ultima domanda della giornata finiamo questa in modo un po' più poetico regia mi piace questa è il webinar pre-pasquale quindi lo finiamo in modo un po' più romantico con questa domanda sul re che non rispettò il consiglio del gran ciammellano di opporsi alla celebrazione del matrimonio della principessa dal collo di cigno con il gospo che amava qualora i giovani insistessero per celebrare il rito nella basilica di Superga le principesse almeno quelle delle favole seguono la volontà paterna che cosa possiamo dedurre allora questa è una domanda che attiene alla logica deduttiva in tanti concorsi inseriscono questa dizione logica deduttiva e ad esempio questa è una di quelle domande che potrebbe essere assegnata c'è una domanda che ha a che fare con le negazioni logiche e cosa dice questa domanda se il re non rispetta il consiglio del ciammellano ma cosa consigliava il ciammellano il ciammellano consiglia di opporsi ma il re quindi vuol dire che non si oppone se non si oppone vuol dire che acconsente io non mi oppongo mi chiede in italiano che significa che non mi oppongo vuol dire che lascia andare quindi acconsento a questa cosa quindi il re a cosa acconsente lo posso riscrivere il re acconsente alla di qui alla celebrazione quindi tutta questa parte praticamente la posso cancellare alla celebrazione quindi acconsente che ci sia questo matrimonio della principessa dal collo di Cigno con il rospo e acconsente anche se insistono i ragazzi insistono per celebrare il dito nella basilica di Superga quindi anche se dovessero insistere su farlo nella basilica di Superga il re comunque acconsente alla celebrazione del matrimonio quindi possiamo rileggere la domanda la frase che è stata fornita in questo modo il re comunque dice va bene sposatevi anche se volete farlo nella basilica di Superga anche se il gran Ciambellano si oppone voi se volete vi potete sposare e siccome le principesse acconsentono al ubbidiscono al volere del padre se il padre acconsente quindi la principenza acconsente quindi leggendo le risposte la E dice la principessa del rospo si sposeranno necessariamente no perché non è detto che si sposino lì perché qui questo qualora è un'ipotesi anche se i giovani decidessero di farlo lì comunque il re rispetterebbe il loro volere ma non è detto che poi si sposino nella basilica di Superga quindi la E la eliminiamo i dati del problema non lo utilizzano no perché noi a una conclusione siamo arrivati la principessa del rospo potranno sposarsi ma non nella basilica di Superga no si possono sposare eventualmente anche nella basilica di Superga no la principessa del rospo non si sposeranno no perché il padre acconsente a questo matrimonio la dice la principessa del rospo potranno sposarsi se lo desidereranno nella basilica di Superga sì questa è quella che diciamo la risposta che più assomiglia al ragionamento che abbiamo fatto e vi dico voi non lo sapete ragazzi ma noi siamo in attesa di sapere con chi si sposerà il nostro principe Alberto quando Alberto ci dirà e se vorrà invitarci noi insomma so che adesso non mi vogliono più invitare i matrimoni ma invitarli ogni tanto partecipo ai matrimoni se le lezioni me lo consentono ogni tanto partecipo a un matrimonio quindi spero che Alberto ci dica dove si voglia sposare se alla basilica di Superga o meno dopo averci presentato la sua principessa e chiudo e poi se ci sono delle domande insomma rispondo a queste domande guardate come sintesi di questo anche primo ciclo di webinar che ormai sono diventati per tanti un appuntamento chisso mi piaceva chiudere con questa frase di Pasolini che diceva ti insegnano a non splendere e tu splendi allora cioè proprio quando ci sono delle persone che vi disorientano che vi dicono voi non ce la farete mai quando voi stessi vi siete autoconvinti di non potercela fare è proprio lì che dovete insistere maggiormente perché vi assicuro che cambiando alcuni aspetti anche in termini di studio di approccio allo studio si possono ottenere dei risultati meravigliosi e noi siamo alla vigilia di una stagione dove verranno assegnate migliaia decine di migliaia di posti di lavoro quindi non abbiate paura di splendere